La gente e i purificatori continuano ad appiccare incendi e non abbiamo le risorse per spegnerli. Se non blocchiamo la loro produzione di napalm, una folata di vento di troppo potrebbe far bruciare l'intero quartiere. Il fatto è che hanno la produzione nel cuore del quartier generale, ed è lì che devi andare. Trovala, fermala e fai in modo che non possano ricostruirla. Il che significa eliminare i purificatori. Se sottrappite ricomincerà tutto da caos. Quel posto dovrebbe essere pieno di napalm e benzina. Se trovi dei serbatoi, eliminali in ogni modo. Non voglio che i purificatori possano recuperare quella roba quando hai diritto. Sappiamo bene di cosa sono capaci. Ho bisogno di voi e dei vostri nomini per fare la guardia a te. Ho più il tuo sentimento. Ho bisogno di voi. 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 Grazie a tutti. Ehi, piano! Che ne pensai della bruciatura? La tornata è buona? Ehi, piano! Che ne pensai della bruciatura? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giusto per tua informazione, l'esplosione l'abbiamo vista da qui. Detto questo, ci saranno altri serbatoi di Napalm nell'edificio. Occupati di quelli, poi vedi cosa fare con ferro. Radio faro eco rilevato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok gente, ecco cosa dobbiamo fare. Ci ritiriamo, ci ritroviamo alla torre di guardia e li tratteniamo lì. Avete capito? È lì che resisteremo con tutte le nostre forze. È lì che si pentiranno di essersi messi contro di noi. Ascoltatemi, neunque voi siate. Immagino che siate dei federali, ma poco importa. State facendo la cosa sbagliata e per questo morirete. Gli uomini che state affrontando sono qui a fare quello che voi non avete avuto le palle di fare. Potevamo andarci, potevamo tornare a casa dalle nostre famiglie. Ma siamo rimasti qui a bruciare questo schifo, per fermare tutto quanto. Se siamo sacrificati, poi arrivate voi. Arrivate e provate a mandare tutto a puttane. Come se non fosse già abbastanza difficile fare ciò che va fatto. No, non ci stiamo. I miei ragazzi non ci stanno. E andremo avanti. A costo di passare sui vostri cadaveri. Stai entrando in un'area sicura. Attenzione, stai per uscire dall'area sicura. Che state aspettando? Addosso! Stai entrando in un'area sicura. Stai es frappata. ... Forza, andate! Eh, è fatto? Sì, ancora un secondo. Devo andare. Perché ci metti così tanto? Scusa, c'era un problema con le cinghie della bombola, ora ci siamo. Finalmente, cazzo. Sono pronto! Scusa, vado! Scusa! Scusa, vado! I rilevamenti indicano che l'aria è... Attenzione, stai appartonando l'aria sicura. Scusa, vado! Scusa, vado! Scusa, vado! Scusa, vado! Scusa, vado! E con la produzione di napalm a fuori uso, i purificatori saranno un problema molto più gestibile. Un sacco di gente vi deve la vita, anche se magari non lo sa. Ottimo lavoro. Ingresso in un'area sicura. Scusa, vado! Scusa, vado! Scusa, vado! Scusa, vado!